Ma sicuro? Ci sono altre cose che proteggono la pietra, dico bene, magie incantesimi. Proprio così. Una gran perdita di tempo, secondo me. Nessuno riuscirà a tenere buono Fuffi. Nessuno sa come farlo. Solo il sottoscritto è silente. Questo non dovevo dirvelo. Non dovevo dirvelo. Hagrid, cos'è esattamente? Questo è un... è un... Io lo so che cos'è. Ma Hagrid, dov'è che l'hai preso? L'ho vinto a uno straniero che ho conosciuto al pub. Sembrava contento di liberarsene per la verità. Questo è... un drago. Questo non è un semplice drago. È un dorso rugoso di Norvegia. Mio fratello Charlie li sta studiando in Romania. Non è un amore. Dio lo benedica. Guardate, riconosce la mamma. Ciao, Norberto. Norberto? Sì, beh, deve pure avere un nome, no? Non è vero, Norberto? Eh? Ha bisogno di un po' di addestramento. Quello chi è? Malfoy. Oddio.